Carlo Rovelli, fisico, teorico e ricercatore nell'ambito della teoria della gravità quantistica loop, ci fa accomodare a fianco di Democrito, Einstein, Heisenberg, mentre elaborano le loro teorie. Partecipiamo ai loro ragionamenti e osserviamo il loro stupore e spesso la loro stessa incredulità davanti a equazioni che descrivono una realtà del tutto controintuitiva. Vediamo il tempo scorrere più veloce in montagna rispetto al mare e lo vediamo scomparire nella descrizione del livello fondamentale della fisica. Osserviamo la natura granulare dell'infinitamente piccolo e arriviamo fino al bordo dei buchi neri. Per seguire Rovelli in questo avvincente viaggio occorre pochissima matematica ma molto, molto coraggio per rinunciare ai nostri preconcetti, per aprire la mente al fatto che la realtà non è come ci appare. Grazie. 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 Grazie.